ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come riciclare un contenitore in questo caso è il contenitore di una bottiglia di rum e come utilizzare anche degli avanzi di carta perché in questo caso ho utilizzato la carta scrap dell'album alchemy di stamperia che ho utilizzato per fare un album di cui trovate la realizzazione sul mio canale avevo avanzato un pochino di carta e quindi ho deciso di riciclare tubo da utilizzare poi per depositare i miei pennelli e tutta la carta avanzata per creare questo nuovo progetto ho utilizzato con tutto materiale stamperia e nello specifico i colori allegro in queste tre tonalità perché mi sembrava mi sembrava che andassero bene ad abbinarsi a questa carta nello specifico sono il color cappuccino il color torroncino e poi utilizzato questo verde acqua perlato per dare un po di luminosità al tutto e poi anche stencil e timbri stamperia ma che vedrete poi nel dettaglio mentre mentre realizzo il progetto questo punto come dicevo un modo un po per utilizzare gli avanzi di carta perché alla fine ce ne sono sempre tanti quando si fa un lavoro rimangono i particolari più piccoli e può essere un'idea fare un lavoro del genere per per riutilizzarli e adesso vediamo come effettuare questa trasformazione grazie a tutti 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 Grazie a tutti